Ciao, nei giorni scorsi mi sono imbattuto in due problemi che mi hanno messo in difficoltà e oggi volevo condividere con voi i due problemi e cercare anche di ripassare il processo mentale che bisogna attivare per la loro risoluzione. Il primo problema è quello riportato sulla scacchiera in cui la mossa al bianco e il bianco deve cercare di vincere. Il bianco ha un pedone in meno, dopo ci sono due torri a testa e le donne è un cavallo per il bianco e l'alfiere per il nero. La mossa al bianco e vista la presenza di scacchi per esempio torre mangia torre in f8 scacco, donna mangia h7 scacco, cavallo mangia f7 scacco e poi ci sono anche mosse di minaccia per dire g3 g4. la posizione richiede un calcolo di tipo tattico. Il calcolo di tipo tattico è alimentato dei motivi tattici che abbiamo già descritto in precedenti video e che riporto sopra di me, quindi sono un po' gli strumenti che è necessario attivare in un processo di calcolo tattico. Una cosa che dall'analisi critica del perché avessi avuto difficoltà a risolvere questi due problemi è dovuto al fatto che non ho dedicato il giusto tempo per capire la posizione in quanto la posizione è come se ci dicesse cosa nasconde e quindi ho coniugato il termine sentire la posizione proprio perché bisogna dedicare del tempo per ascoltare cosa sta dietro la posizione e cercherò adesso di riportare alla luce le peculiarità della posizione che stiamo osservando adesso che è importante capire prima di attivare il calcolo. Nella posizione in esame è abbastanza facile vedere come la casa H7 è importante visto che è attaccata da cavallo e donna che sia difesa dalla donna quindi un primo aspetto importante di questa posizione è capire che la donna non può muoversi, allontanarsi dal controllo di H7 in quanto il nero prenderà matto. Quindi questo qua è un primo aspetto, poi un secondo aspetto molto importante nella posizione è capire anche l'importanza della torre in F4 in quanto la torre in F4 svolge il compito di difendere la donna da un'ipotetica minaccia di scacco di scoperta col cavallo in F7 che potrebbe attivarsi dopo torre E8 mangia torre F8, alfiere mangia torre, a questo punto se non ci fosse la torre in F4 il bianco potrebbe giocare cavallo F7 scacco, il re deve muoversi e la donna mangerebbe la donna. Quindi ci sono questi elementi che bisogna dedurre dalla posizione che sono estremamente importanti, quindi è importante capire che la donna del nero deve difendere H7 e che la torre deve difendere la donna. A questo punto tra gli utensili da utilizzare, tra i motivi tattici da utilizzare nel calcolo potrebbe diventare interessante cercare di utilizzare il dispositivo della deviazione per spostare o la donna o la torre oppure in successione tutte e due e quindi una volta sentita questa voce alla posizione è importante si iniziare il calcolo. Il primo calcolo che si può fare è calcolare le mosse forzanti per esempio torre mangia torre, alfiere mangia torre, visto che è una mossa forzata in quanto se è obbligatorio che dopo torre mangia torre, l'alfiere mangia la torre, è importante in genere ricondursi anche in questo scenario perché è uno scenario quindi che può essere forzato e quindi bisogna immaginare di essere nella posizione iniziale con l'alfiere in F8 del nero e senza le torri E8 del bianco la torre F8. Quindi bisogna visualizzare la posizione con l'alfiere in F8 e a questo punto pensare a deviare la donna o la torre o in successione tutte e due come ho detto prima. la prima cosa che ho cercato di fare è vedere che dopo G4 la donna va tranquillamente in G6 e quindi diventa difficile trovare un modo per vincere da parte del bianco e mentre diventa interessante la mossa G3 perché la mossa G3 con la quale il pedone in G3 attacca la torre obbliga la torre a muoversi di fatto se non vuole essere persa o in F3 o in F2 e quindi in F2 mangerebbe addirittura il pedone e a questo punto una volta fatto G3 e la torre va in F3 o in F2 cos'è che cambia rispetto alla posizione iniziale? rispetto alla posizione iniziale cambia che la torre spostandosi va in una casa controllata o dal cavallo quando va in F3 o dal re quando va in F2 e questo elemento che cambia la posizione è importantissimo perché a questo punto se noi successivamente dopo aver obbligato il nero a muover la torre su una casa controllata un pezzo bianco possiamo col pedone G3 attaccare la donna e a questo punto quello che cambia che la donna non potrà andare in E4 perché è presa dal cavallo non potrà potrà andare solo in G6 se non vuol prendere matto con donna per H7 e a questo punto quello che cambia che il bianco potrà cambiare le donne e sulla ripresa della donna bianca col pedone il re mangerà la torre o il cavallo mangerà la torre quindi questo è di fatto la soluzione che dopo richiede dei calcoli approfonditi anche per evitare che ci siano scacchi strani ma si può vedere che dopo G3 torre per F2 dopo G4 il nero per dare dei scacchi deve sacrificare la torre un F2 o un G2 e si vede abbastanza si può immaginare abbastanza che con solo la donna sarà ben difficile che il nero riesca a dare il perpetuo cioè in realtà c'è la donna e l'alfiere però il bianco avrà facilità ad andare col re dopo un po' di scacchi in H4 oppure usare la torre per coprirsi quindi alla fine la soluzione del quesito è prima mossa mangio la torre e quindi giocherò torre mangia torre alfiere mangia alfiere mangia torre a questo punto prima G3 destabilizzo la torre la quale torre sicuramente non può muoversi sulla traversa perché c'è lo scacco di scoperta con cavallo F7 si dà scacco e libera l'azione della donna che mangerà la donna oppure dopo donna mangia cavallo donna mangia donna con grande vantaggio di materiale da parte del bianco oppure dopo G3 si può immaginare che il nero mangi il pedone in F2 a questo punto subentra la seconda deviazione con il pedone che va in G4 attacca la donna vuol deviare la difesa della donna su H7 e a questo punto abbiamo detto ci sono un po' di scacchi possiamo vedere lo scacco in G2 re prende donna scacco G3 donna D6 re H4 e a questo punto l'unica per parare il matto e donna G6 a questo punto il bianco cambierà le donne avrà un pezzo in c'è la torre in più con facile vittoria dopo G4 sicuramente potrebbe andare in G6 subito ma segue donna per pedone per e la torre che è stata deviata in F2 verrà mangiata con re e quindi anche qua guadagno di materiale e dopo G4 un altro scacco che potrebbe dare il nero è torre F1 ma a questo punto segue torre mangia torre e dopo questi scacchi quindi il bianco forza la vittoria in questo modo anche qua con facile vittoria quindi abbiamo visto che dopo G3 torre per F2 perde ma perde anche se la torre va in F3 perché a questo punto segue ancora G4 e anche qua come prima se va la donna in G6 segue donna cambia pedone cambia cavallo per F3 e anche qua facile vittoria parte del bianco quindi la soluzione della posizione iniziale richiedeva per essere trovata la comprensione della posizione quindi capire tutto ciò che era nascosto dentro la posizione per esemplificare ancora questa modalità di approfondire l'analisi della posizione per estrapolare tutti i contenuti della posizione faccio un altro esempio anche qua di un problema che non sono riuscito a risolvere che è la ragione per cui non sono riuscito e che non ho dedicato il giusto tempo nel capire adeguatamente la posizione posizione questa mossa al nero qua il nero ha un pedone in più però il bianco fa pressione su G7 e sta minacciando cavallo E4 con cavallo oppure donna G6 H6 quindi c'è un forte attacco su G7 però la mossa è al nero il nero deve cercare di capire come vincere perché la posizione è vinta però bisogna capire bene la posizione e una cosa da capire è che c'è il cavallo in C5 che facilmente attaccabile dalla donna con donna D6 donna B6 donna A5 e un'altra cosa che presenta la posizione è che la donna può dar scacco in D1 e una cosa un po' più nascosta è però che balza velocemente agli occhi è che la torre non può spostarsi perché se no andrebbe a cadere l'inchiodatura del pedone G7 e il nero potrebbe giocare pedone G7 che mangia donna mettendo a fuoco questi aspetti che sono nascosti la posizione quindi la posizione ci sta dicendo che ci sono queste cose da osservare potrebbe essere interessante capire come attaccare le due debolezze della posizione che sono il cavallo e la torre con un attacco doppio perché la posizione nasconde un attacco doppio è una mossa che attacca il cavallo e di fatto attacca la torre sembra impossibile ma in realtà è possibile perché se voi immaginate di andare in A5 con la donna la donna attacca il cavallo ma attacca anche la torre grazie allo scacco in E1 e dopo c'è donna mangiatorre quindi donna 5 di fatto sta attaccando sta facendo mettendo in atto un motivo tattico dell'attacco doppio in quanto viene attaccato il cavallo e la torre è la torre che è imprescindibile che stia sulla colonna G per salvare la donna però di fatto quando nella variante donna 5 se il cavallo venisse salvato giocando cavallo E6 seguirebbe donna e uno scacco re si sposta donna mangia torre re mangia donna a questo punto pedone g7 mangia donna con guadagno di materiale da parte del nero che si trova con la torre in più quindi la mossa corretta è donna 5 perché come miglior mossa che può fare il bianco è salvare la torre o giocando donna G6 oppure perdendo il cavallo quindi la mossa corretta è donna G6 e vediamo le varianti se le varianti le più banali è salvare il cavallo con cavallo E6 a questo punto segue donna scacco re si sposta donna mangia torre re mangia donna pedone mangia donna e il nero si trova con una torre in più dopo donna 5 per salvare la torre il bianco potrebbe giocare per esempio donna G6 la donna si leva dalla minaccia il pedone quindi il bianco salva la torre però a questo punto viene perso il cavallo e dopo una difesa non troppo difficile da parte del nero del punto G7 la posizione è vinta da parte del nero perché c'è un pezzo in più e questo un seguito che lo evidenzia in alternativa a donna G6 si poteva giocare per salvarla per salvare la torre in realtà no perché anche cavallo E4 si tenta di salvare il cavallo ma segue sempre donne 1 e dopo donna scacco si perde di fatto la torre un'ultima variante potrebbe essere mi tolgo dal scacco in E1 ma a questo punto perdo il cavallo perché dopo re H2 per esempio c'è donna mangia cavallo donna G6 e anche qua non è difficile per il nero contrapporsi all'attacco di donna e torre perché c'è tutti i pezzi che giocano questo qua potrebbe essere un seguito che con il quale il nero raggiunge una posizione vincente quindi questi due esempi mi ha fatto ricordare l'importanza di dedicare del tempo per capire la posizione quindi sentire la voce della posizione in situazione di calcolo tattico che come già più volte menzionato è attivato da mosse di scacco o di o di minaccia o di cattura e che poi è gestito con i motivi tattici oggi abbiamo visto il motivo tattico della deviazione nel primo problema il motivo tattico dell'attacco doppio molto nascosto perché era un cavallo una torre tramite uno scacco del secondo problema spero che sia stato tutto interessante vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao